Allora, cominciamo con questo annuncio che era stato fatto ieri sull'account ufficiale di Twitter di The Division 2. Io ne avevo già parlato ieri sera, però in linea di massima mi sono lamentato perché loro come comunicazione e come marketing PR veramente sono ai limiti storici, veramente mai visto una compagnia non avere... c'è un minimo di risorse per pubblicare un'immagine, un mini trailer, tutto il resto, cioè loro vanno avanti da un anno e mezzo con questi comunicati orribilanti. Nonostante questo comunicato abbia delle buone notizie perché essenzialmente da oggi si può scaricare in preload il PTS di questo nuovo aggiornamento di The Division 2 e il PTS che cos'è? È un server pubblico per testare, per provare questi nuovi contenuti del gioco prima che arrivino nel server ufficiale del gioco. Questo server è disponibile solo su PC, è gratuito tramite Uplay, quindi non si può avere accesso tramite qualsiasi altro tipo di piattaforma, che ne so, Stadia o... insomma, le console e tutto il resto. Ah, per chi non lo sapesse, questo video è in collaborazione con The Division Dark Zone Italia, per chi non lo sapesse è una delle community più importanti italiane legate al franchise The Division, dove io stesso sono uno degli admin, dei moderatori, quindi anche per questo cerco di portare questo tipo di contenuti. E infatti ora vi faccio vedere le patch notes di questo PTS che la nostra founder Ellen ha caricato sul sito TheDivisionDarkZone.it, che essenzialmente sono scritti in inglese, io vi farò un minimo di traduzione, ho già riassunto il tutto in alcune prime impressioni nel nostro gruppo ufficiale su Facebook, se vi va di unirvi. Però insomma, in linea di massima, quali sono i dettagli di questo PTS? Come ho detto, da oggi c'è il preload, domani, a partire dalle 11, si potrà giocare questo PTS, e in questo PTS ci sarà essenzialmente due cose nuove. La modalità Countdown, che è una modalità PvE, specifichiamo PvE, per 8 giocatori, è una modalità a tempo con diversi obiettivi e tutto il resto. E poi c'è questa nuova modalità, non è tanto una modalità, ma è un nuovo sistema di progressione e tutto il resto, che si chiama Expertise. Essenzialmente cos'è questa Expertise? Che dovrebbe essere una sorta di specializzazione, se così la vorranno tradurre in italiano, io non lo so. Però essenzialmente, in The Division 2, come funziona un po' l'endgame? Una volta che tu raggiungi l'endgame, devi trovare sempre equipaggiamenti più forti, più potenti, con statistiche maxate, per, insomma, trovarti meglio in PvE e in PvP. Come Massive Entertainment, cioè gli sviluppatori, hanno cercato di creare questa progressione nell'endgame, hanno cercato di aggiungere un sistema legato all'orologio degli agenti, ovvero che il fatto che ogni volta che si livella, ovvero che si riempie la barra degli XP, una volta raggiunge il livello massimo, si riceve un punto. Questo punto ci può essere utile per aumentare diverse statistiche principali del nostro personaggio, ovvero il danno arma totale, il danno delle abilità, quanta vita abbiamo, quanta armatura abbiamo, insomma, varie altre cose. Che non è un sistema così brutto, però è una progressione lenta e molto noiosa, questo c'è da dire, ma come anche tutto il resto del gioco di The Division. Quindi, cioè, seguono lo stesso percorso, in un certo senso. E una volta che hanno aggiunto questo, hanno poi avuto l'idea di aggiungere varie altre cose. Nello specifico hanno aggiunto una stazione di ricalibrazione e una stazione di ottimizzazione, oltre a un'altra stazione che non mi ricordo che cosa era, però... Allora, per farla molto in breve, la stazione di ricalibrazione cosa ci permetteva di fare? Ci permetteva di cambiare una statistica principale di un oggetto, o secondare, comunque una sola statistica delle varie che sono nell'oggetto, per mettercene un'altra. Quindi tu potevi ricalibrare l'oggetto cambiando le sue statistiche, e in questo modo potevi maxare o rendere un oggetto che magari era inutile, un oggetto che ti poteva servire. Poi c'era un altro tipo di ricalibrazione, che essenzialmente ti andava... Quando tu volevi mettere una statistica in un oggetto, dovevi prenderlo da una libreria. Questa libreria di statistiche era fatta da oggetti che tu dovevi donare, in questa stazione, con x statistiche. Quindi, per farla breve, se tu nella libreria non avevi, che ne so, un 10% di danno arma, come statistica, perché non avevi donato un oggetto con questa statistica, non potevi sostituire una statistica di un oggetto x con questa qui che volevi. Quindi, prima di poter utilizzare questa statistica specifica nell'oggetto, devi prima donarla in questa libreria. Oltre a questo, hanno aggiunto la stazione di ottimizzazione. La stazione di ottimizzazione, cosa ci permette di fare? Essenzialmente va ad aumentare, molto lentamente, le statistiche di un oggetto, senza doverlo ricalibrare. Quindi è una cosa secondaria che tu fai una volta che tu magari hai già ricalibrato un oggetto per avere le statistiche che ti interessano. Fin qui tutto bene, potremmo dire. Il problema però qual è di The Division 2? Che il gioco ti dà costantemente un sacco di loot inutile. Completamente inutile. Quindi, il fatto di aggiungere vari sistemi a cui tu vuoi donare questi oggetti per ricevere delle valute, per ricevere dei bonus quando magari devi ricalibrare gli oggetti e tutto il resto, non va a compensare la quantità di loot spazzatura che tu ricevi in tutto il resto del gioco. Perché il 99% dei contenuti che tu puoi giocare nel gioco continua a darti loot spazzatura. E non l'hanno mai cambiata questa cosa. Ci hanno provato diverse volte, ma non l'hanno mai cambiata questa cosa. Soprattutto, questa cosa di dover donare gli oggetti diventava una progressione lenta, noiosa e per niente raccomandabile da fare perché essenzialmente tu dovevi costantemente giocare, rigiocare contenuti a loro volta noiosi che non ti davano alcun tipo di sfida per ricevere delle piccolissime valute e con quelle valute andare ad interagire con queste varie stazioni. E quindi diciamo che questa è la base che esiste in The Division 2 da ben un anno e mezzo. Ora, potrei anche fare un altro discorso, forse ce lo faccio. Che essenzialmente dopo il lancio del gioco nel 2019 l'ultimo grande aggiornamento che è arrivato in questo gioco su The Division 2 è stato un DLC nel 2020 che era abbastanza carino. Il problema però dove è stato? Dopo. Dopo questo DLC hanno portato avanti questo sistema di stagioni in cui ogni due o tre mesi arriva una stagione diversa con nuovi contenuti, tra virgolette nessuna nuova modalità di gioco però essenzialmente ci sono degli eventi in cui cambiano delle funzioni, delle meccaniche all'interno del mondo di gioco che ti permettono di fare diverse cose. Queste stagioni purtroppo si sono rivelate a loro volta dei contenuti dei contenuti noiosi e ripetitivi e dopo essenzialmente quattro stagioni non hanno aggiunto più nulla ce le hanno ripetute per un anno e mezzo quindi a fine marzo 2021 cioè dopo un anno di queste stagioni nuove da marzo 2020 a marzo 2021 fino ad oggi che è passato un altro anno hanno ripetuto queste stagioni aggiungendo qualcosina ma per lo più non hanno aggiunto nulla e arriviamo ad oggi in cui c'è questa nuova modalità di expertise cioè modalità questo nuovo contenuto expertise dove essenzialmente loro ti danno un'altra non una stazione ma un'altra meccanica di gioco in cui tu cosa devi fare devi donare il tuo loot spazzatura nel gioco per cercare di ricevere un boost di qualche tipo che ripeto non va in alcun modo a cambiare la base fallace che c'è nel gioco e quindi sarà un altro sistema in cui i giocatori dovranno interagire quei tre o quattro che ci giocano ormai e quindi insomma a mio modo di vedere non cambierà proprio nulla poi se vi interessa sapere che cos'è l'expertise e tutto il resto andate sul sito di divisiondarkson.it ci sono degli articoli che abbiamo tradotto sia io che Elena dove viene spiegato un po' il tutto ora non sto qui a ripeterlo però insomma come ho detto prima bisogna donare oggetti per ricevere dei boost per il proprio agente per fare più danni insomma cose di questo tipo ci sono per qualsiasi tipo di cosa allora poi qua il PTS c'è scritto che è diviso in tre fasi nella prima fase ci sono countdown nella seconda fase ci sono nuovi equipaggiamenti e ribilanciamenti di vari oggetti e nella terza fase andranno essenzialmente a non ci saranno nuovi contenuti però ci saranno dei fix legati alla prima e alla seconda fase quindi prima di vedere dei cambiamenti all'interno del PTS cambiamenti sostanziali ecco dovremmo aspettare la terza e ultima fase quindi vedremo insomma sarà una cosa che durerà a mio modo di vedere almeno per un mesetto quindi per tutto il mese di aprile manderanno avanti questo PTS e probabilmente in gioco lo vedremo solamente nel maggio giugno probabilmente poi vabbè qua ci sono varie cose di come viene spiegato cioè vari dettagli di questo countdown di questa expertise ci sono nuovi equipaggiamenti che non vi sto nemmeno qui a spiegare magari ne parleremo domani in diretta più nello specifico però in linea di massimo ora vi faccio vedere quelle che sono le mie il mio riassunto di quello che ho visto da tutti questi nuovi equipaggiamenti e tutto il resto ovvero che quello che hanno pensato di introdurre nel gioco in questo momento sono equipaggiamenti ed armi che si legano a tre tipi di build fattibili all'interno di division 2 ovvero i dps cioè quelli che fanno danno i tank quelli che essenzialmente prendono danno e cercano di coprire il team e chi fa le build ibride build ibride significa che tu hai un bonus non con degli equipaggiamenti senza doverti dedicare a una build più specifica senza dover utilizzare oggetti che ti danno solo ed esclusivamente un danno in più o comunque ti permettono di restare in vito una build ibrida è una di quelle cose che va bene un po' in tutto e nello specifico oltre a questi equipaggiamenti poi ho notato che non ci sono equipaggiamenti o armi legati agli healer stranamente e poi leggendo all'interno di questo patch ho notato che la maggior parte di questi equipaggiamenti vanno essenzialmente a darti un bonus se tu utilizzi l'abilità dell'impulso è una cosa che ho notato perché l'abilità dell'impulso a differenza di division 1 dove aveva un'utilità bella grossa cioè era una di quelle abilità utilizzate per lo più nelle build dps per far danno in division 2 l'impulso è quasi sempre stato un'abilità inutile hanno cercato di dargli delle mod alternative tutto il resto però al 90% è sempre stata un'abilità veramente inutile ti permetteva di vedere i nemici però non avevi alcun tipo di bonus nei nemici che andavi ad individuare quindi invece qua hanno cercato di introdurre degli equipaggiamenti delle armi che ti permettono di avere dei bonus quando i nemici vengono identificati dall'impulso poi un'ultima cosa che ho notato è che piuttosto che dedicarsi a di solito cosa facevano mettevano degli equipaggiamenti che aumentavano delle statistiche specifiche e poco altro qua invece hanno cercato di fare con queste armi esotiche equipaggiamenti e tutto il resto hanno cercato essenzialmente di dare aumentare tutto il tipo di danno che può fare il giocatore ovvero danno delle armi danno delle abilità e varie altre cose e soprattutto hanno anche cercato di aumentare tutto il tipo di danno che ricevono i nemici questo che cosa ci va a dire che essenzialmente il gioco si sta muovendo più verso il casual side ovvero che piuttosto che darti equipaggiamenti che funzionano in situazioni specifiche o build specifiche gli sviluppatori hanno pensato di dare degli oggetti che un po' tutti potrebbero utilizzare o che comunque se tu li ottieni in gioco puoi vedere dei miglioramenti nel tuo tipo nel tuo stile di gioco ora non so che cosa dire al riguardo perché insomma non credo che The Division 2 aveva bisogno di oggetti più specifici né tantomeno credo che aggiungere oggetti più generici possa in qualche modo migliorare l'esperienza di gioco anche perché ripeto e mi so sarò ripetuto un paio di volte ormai se la qualità dei contenuti rimane invariata non è l'oggetto o l'equipaggiamento che tu usi in gioco a renderti l'esperienza di gioco migliore perché l'esperienza di gioco è quella cioè tu vai lì uccidi il nemico e vai avanti e ti prendi loot cioè non cambia ora dubito che questa nuova modalità sarà così innovativa però insomma vedremo domani e va bene questi sono un po' tutto il resto quello che ora vi rimando all'articolo se volete reggere le cose più non specifico però insomma in linea di massima questi sono i contenuti di The Division 2 e domani faremo una diretta io ed Elena a partire dalle 21 quindi non mancate se vi interessa vedere in azione questi nuovi contenuti di The Division 2 e poi vabbè per altre news vi rimando sempre al sito thedivisiondarkzone.it grazie a tutti